Giovedì 16 febbraio dalle ore 16 e 30 presso la sala conferenze della SSMSPA convocato dal presidente Alessandro Massi si riunisce il consiglio comunale della città di Tolentino. Saranno trattati i seguenti argomenti approvazioni verbali mesi settembre-dicembre 2022 comunicazioni del sindaco e del presidente del consiglio interrogazioni di Luconi su presidenza SSM Cesini e Deste successione moduli villaggio container e interventi al palazzetto dello sport Commissione consultiva e di studio, surroga, sociale e istituzione, dimissioni componente Regolamento e disciplinare per interventi di scavo e ripristino su aree pubbliche o ad uso pubblico nell'ambito del territorio comunale Acquisizione ed accorpamento al demanio statale di aree private usate per viabilità pubblica da oltre 20 anni Autorizzazione a vendere un immobile, sito a Tolentino, al centro commerciale Larancia appartenente alla signora Rita Pasquarella Adozione alla variante parziale al vigente PRG approvato con decreto del consiglio comunale numero 14 del 2022 in via Borgo Cartiere, zona Formaggino Aree PEP e PIP per ricognizione e determinazione prezzo di cessione anno 2023 Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF conferma aliquot anno 2023 Approvazione aliquote IMU 2023 Approvazione del piano di valorizzazione del patrimonio comunale anni 2023-25 Approvazione del documento unico di programmazione 2023-25 Del bilancio di previsione 2022-25 Nota integrativa e relativi allegati E poi ancora una mozione presentata dai consiglieri Luconi, Prioretti, Tato e Colossi su menze scolastiche E poi ancora una mozione presentata dai consiglieri Luconi, Prioretti, Tato e Colossi su menze scolastiche